Il ritrovamento di un arco in stile gotico in un immobile del comune spiega le origini dell'attuale piazza Zuni dove era presente una chiesa, Santa Caterina, poi abbattuta. E la scoperta raccontata in un libro del giornalista Cosimo Filigeddu dal titolo Buttate giù quella chiesa, presentato ieri sera presso la sede dell'associazione Hauser inviati in Toretto a Sassari. Su Facebook nel 2016 comparve una foto d'epoca sbiadita che mostrava parte della facciata di una chiesa, non l'attuale Santa Caterina ridosso del Canopoleno, ma quella storica il cui posto è stato occupato da un edificio che fa d'angolo tra piazza Zuni e largo Cavallotti. Nel corso della presentazione del volume si è sottolineato come nella memoria collettiva dei sassaresi il principale ricordo sia la demolizione del castello aragonese, piuttosto che quello della chiesa che sorgeva nell'attuale piazza Zuni. Con questo volume si scopre che il danno è ancora più grave e ingiustificato. Un cold case fatto di documenti inediti che leggano la demolizione a speculazioni, malversazioni e lotte di potere le quali fece seguito un'epidemia di colera che nel 1855 decimò la popolazione della città. Dalla storia emerge in ogni caso il carattere progressista della Sassari di fine risorgimento, un risorgimento ancora vivo nella memoria dei sassaresi, un monumento che si pensava perso per sempre ma che rivive nelle nuove scoperte.